Promossa sui trasporti, rimandata a settembre in sicurezza, scrutini anticipati per la città di Torino che dopo quattro anni torna a commissionare un'indagine sulla qualità dei servizi delle municipalizzate GTT e Amiat. E la pagella degli utenti valuta con sufficienza piena i trasporti e la raccolta di rifiuti, ma boccia la sicurezza su tram e autobus e la pulizia nelle strade di periferia. Qui la media arriva a stento al 5,8, mentre strappa un più convinto 6,6 sui servizi di GTT. Anzi, 1.400 utenti intervistati hanno dato 7 alla metropolitana, un giudizio che ha però dovuto far media con il 5,5 che meritano alcune linee di autobus, soprattutto le più periferiche come il 66. La media generale poi tiene conto di più criteri, ad esempio il comfort e la frequenza delle corse è quasi sempre sufficiente, molto meno il rispetto degli orari e la comunicazione, dalle informazioni sugli scioperi alle modifiche ai percorsi. Un giudizio quello degli utenti che nonostante qualche criticità soddisfa Palazzo Civico, con l'assessore ai trasporti Claudio Lubatti che rassicura sulla sicurezza. Da maggio scorso, dice, sugli autobus viaggiano nuove squadre di vigilanza. Più che sufficiente anche il servizio di igiene ambientale. Qui gli intervistati sono stati 1.200, 6,6 la media dei voti sulla raccolta dei rifiuti, con una forbice che va dal 5 di quasi tutte le periferie al 7 di altri quartieri. Molto più alto invece il giudizio sulla differenziata porta a porta, promossa a pieni voti con la media dell'otto. Infine, il Comune ha voluto conoscere il giudizio dei torinesi anche sul servizio offerto dalle farmacie comunali. Più ristretto il campione, appena 200 persone, e molto alto il voto che sfiora la media del 9.